Pareggio esterno tra le polemiche per l'Atletico Licata. I ragazzi di mister Gaetano Profumo sono stati fermati sull'1-1 sul campo del Muxar in una gara condizionata da una quanto meno discutibile direzione di gara del signor infantino di Agrigento. L'Atletico ha condotto per larghi tratti la gara senza rischiare quasi nulla, malgrado l'inferiorità numerica generata dall'espulsione nella prima frazione di gioco di Salvati. Il vantaggio Licatese era arrivato alla mezz'ora grazie alla prima rete con la maglia dell'Atletico di Fabrizio Grillo. Nei minuti conclusivi, il fattaccio, dopo il pareggio sul calcio di rigore dei padroni di casa per effetto della realizzazione di Galvano all'ottantesimo, l'Atletico aveva avuto la forza di tornare subito in vantaggio grazie a Giuseppe Cambiano, lesto a correggione in rete non respinta di Sicurello, inspiegabile dell'annullamento della rete da parte del signor infantino che ha motivato con un inesistente fuorigioco il suo fischio che ha vanificato la marcatura Licatese. Nei concitati momenti delle proteste, espulso il tecnico dell'Atletico Gaetano Profumo. Di solito non commento mai le decisioni arbitrali, le parole ad allenatore Licatese, ma stavolta si è davvero passato il segno. Siamo stati scippati di due punti, anche gli avversari hanno sottolineato che avremmo meritato la vittoria. Sono molto amareggiato. In virtù di questo pareggio, l'Atletico sale a quota 8 punti.